Costato parecchie centinaia di migliaia di euro e chiuso e abbandonato. Siamo a Roccanova e questo è il palazzetto dello sport comunale per il quale la Guardia di Finanza di Lauria ipotizza un danno erariale di 646.000 euro. Lo spreco è stato segnalato dalle fiamme gialle alla Procura regionale della Corte dei Conti che ha aperto un fascicolo. La contestazione riguarda i componenti della Giunta Comunale, in carica fino al 2009 e nel 2006 infatti che viene approvato il progetto, ma senza nessuna valutazione, fanno sapere i finanzieri sui reali benefici per la collettività. Ad ogni modo la struttura viene ultimata e collaudata nel 2010 per soddisfare le esigenze dello sport in ben nove paesi, ma a distanza di cinque anni non è mai entrata in funzione. Danno erariale è da verificare perché comunque si tratta di un'opera che è stata realizzata con delle risorse che hanno specificatamente destinato allo sport e non fondi europei ma si tratta di fondi del programma operativo Valdagri. Il danno è stato quantificato sulla base delle spese sostenute per la costruzione del palazzetto e degli oneri accessori di allacciamento alle reti idriche, elettriche e fognare, ma ad aggravare la situazione il fatto che i finanzieri hanno anche documentato il totale stato di abbandono. Non è utilizzato, questo è vero, ma perché c'è il problema di trovare una soluzione ottimale per la gestione di una struttura i cui costi di gestione evidentemente non sono sostenibili dal bilancio comunale nel momento in cui noi pensassimo di utilizzarla in proprio.